il paradiso degli scapoli si trova non lontano da temple bar quando ci si va per l'usuale cammino è come uscire da una pianura calda e arida ed entrare in una fresca e profonda e rosavallata protetta da colline se stanco del frastuono insaccherato dal fango di fleet street dove i commercianti benedict si affollano ogni ora con le righe dei loro libri mastri incise sulla fronte pensando al rincaro del pane al ribasso dei bambini se voi destramente svoltate a un angolo misterioso e non infilate una strada ma scivolate per un segreto sentiero monastico fiancheggiato da scure tranquille e solenni costruzioni e continuando a procedere date l'addio al mondo travagliato degli affanni infine vi troverete libero e svincolato nei tranquilli chiostri del paradiso degli scapoli dolci sono le oasi del sahara incantevoli gli insulari boschetti nelle praterie battute dal sole d'agosto dilettevole la pura fede tra le mille perfidie ma ben più dolce più incantevole più dilettevole il trassognato paradiso degli scapoli che si trova nel pietroso cuore della stupefacente londra immerso in suavi meditazioni passeggiate per quei chiostri godetene la delizia sorseggiate nella pace nel giardino che dà sul fiume attarvatevi nell'antica libreria andate a pregare nella cappella ornata di sculture ma avrete visto ben poco e non saprete nulla e non avrete ancora gustato l'ultima delizia finché non avrete pranzato tra gli adunati scapoli e non avrete visto come i loro occhi e i loro bicchieri brillino nell'ora del convito non pranzate nelle sale comuni durante il semestre pranzate tranquillo a un tavolo privato ospite privatamente invitato dall'ospitalità di qualche nobile templare templare ma questo è un romantico nome vediamo un po' Briand de Bois Gilbert fu un templare credo dovremmo dunque pensare che voi vogliate farsi credere che quei famosi templari ancora sopravvivono nella Londra moderna si può ancora udire il suono dei loro armati talloni lo strepito dei loro scudi quando quei monaci cavalieri si inginocchiano tra un tintennio di maglie davanti a un'ostia consacrata certo un monaco cavaliere sarebbe ben curioso spettacolo lo si incontrasse per lo strand in scintillante corazza il nivo mantello impillaccherato da un omnibus e barbuto per ottemperare alle regole dell'ordine una faccia ersuta e pelosa come quella di un leopardo che spettacolo sarebbe questo truce spettro tra i suoi concittadini tosati e sbarbati ben sappiamo se non arva una triste storia ben sappiamo che un morbo morale intaccò infine questo sacro ordine sebbene nessun nemico armato riuscisse a batterli in campo chiuso il verme della lussuria riuscì a insinuarsi sotto la loro difesa e distrusse il cuore di quella fede cavalleresca ne rovinò i voti monastici finché l'austerità del monaco si rilassò nelle orze e i celibi cavalieri non furono più che ipocriti libertini nonostante questo eravamo ben lungi dall'immaginare che i cavalieri templari seppure continuavano a sussistere si fossero così interamente secolarizzati da aver rinunziato a ritagliarsi una porzione di fama immortale nelle gloriose battaglie sostenute per la liberazione della terra santa riducendosi a trinciare un arrosto di montone a un tavolo da pranzo forse che questi degeneri templari oggi pensano come anacreonte che è molto più dolce cadere in un banchetto che non su un campo di battaglia d'altronde come potrebbe oggi sopravvivere quel famoso ordine dei templari che con i loro mantelli ornati da una croce rossa fumano sigari al divan templari che affollano un treno il quale il remito di elmetti lance e scudi assume l'aspetto di un'unica prolungata locomotiva no il vero templare è scomparso da molto tempo andate a visitare le splendide tombe della chiesa del temple contemplate con la rigide superbe forme distese sui sarcofaghi le brazze incrociate sul cuore che non batte più immerse in una pace che non conosce termini e non è visitata da sogni come gli anni precedenti il diluvio gli arditi templari oggi non sono più e tuttavia il nome resta e resta nominalmente la società restano gli antichi terreni e alcuni degli antichi edifici ma il tallone di ferro oggi si è mutato in una scarpa di coppale il lungo spadone a due mani in una piuma d'oca e si impugna con poche dita il monaco che dava gratuiti consigli spirituali adesso fornisce pareri dietro pagamento il difensore del sarcofago ora se a buona pratica delle nuove armi si trova con più di una causa da difendere colui che si era votato ad aprire e mantenere libere tutte le strade che conducono al sacro sepolcro ora non si occupa se non di interrompere o struire imbarazzare tutte le corti e le vie della legge il cavaliere che combatteva contro i saraceni e ad acri affrontava le punte delle lance ora combatte contro articoli di codice in westminster hall al posto dell'elmetto porta una parrucca colpito dalla verga di quel mago che è il tempo il templare oggi non è che un avvocato ma come molti altri precipitati dalla sommità di una superba gloria come la mela dura sull'albero e matura per terra il templare cadendo è diventato anche più gentile ed amabile per conto mio sono persuaso che quei vecchi sacerdoti soldati nel migliore dei casi non erano che individui rsuti ed arcini sempre serrati in ferramenta di birmingham come potevano le loro rattrappite braccia stringere cordialmente la mano di un amico le loro anime altere ambiziose monastiche sempre ben serrate come i messali in una rilegatura addosso le loro stesse fazze chiuse nell'involucro di una bomba come facevano ad essere individui cordiali ma ottimi compagni gentilissimi ospiti straordinari anfitrioni i templari moderni tanto lo spirito che il vino che offrono sono della migliore della più spumeggiante qualità la chiesa i chiostri i cortili le volte i prati i sentieri i refettori le sale di banchetto le biblioteche le terrazze i giardini i viali spaziosi i domicili le sale di ritrovo che coprono un'enorme istensione di terra e sono tutte raggruppate le une accanto alle altre e ben al riparo dal circostante clamore della vecchia città il tutto poi mantenuto con quel decoro che garba agli scapoli nessuna parte di londra può offrire così piacevole rifugio a un'anima che ami la pace il tempio infatti è una città in sé una città con il meglio di quanto può occorrere come è indicato dalla precedente numerazione una città con un parco aiuole di fiori una riva che dà sul fiume e il tamigi vi fluisce davanti aperto come davanti al paradiso terrestre fluiva il placido eufrate in ciò che adesso il giardino del tempio i vecchi crociati usavano esercitarsi con cavalli e lance mentre oggi i moderni templari occiano sulle panche all'ombra degli alberi e picchiando col frustino le scarpe di coppale si esercitano in allegri discorsi argute schermaglie lunghe file di maestosi ritratti nelle sale dei banchetti rivelano quali grandi e famosi uomini celebri nobili giudici e lord cancellieri siano stati al loro tempo i templari non tutti è vero furono baciati dalla gloria ma se un cuore generoso e un anche più generoso ospitalità se una mente ben fornita e una cantina fornita anche meglio se offrire buoni consigli e splendidi pranzi conditi da preziosi svaghi cui contribuiscono l'allegria e la fantasia se tutte queste qualità meritano una menzione immortale voi muse scrivete i nomi di rfc e del suo imperiale fratello sebbene per essere un templare nell'unico vero senso della parola occorra essere avvocato o studente di giurisprudenza e venire debitamente iscritto come membro dell'ordine tuttavia molti templari non risiedono entro il recinto del tempio quando anche possono avervi ufficio mentre vi sono molti che abitano in quei venerandi vecchi palazzi e non appartengono di buon diritto all'ordine se per esempio voi siete scapolo e incline alla vita contemplativa o un placido scrittore non sposato sentendo il fascino della dolce reclusione di quel posto provate il vivo desiderio di piantare tra le altre la vostra ombrosa tenda in questo sereno accampamento allora dovete farvi un amico tra quelli iscritti nell'ordine e pregarlo di affittare a nome suo e a spese vostre il primo appartamento libero che vi garbi così fece penso il dottor johnson quel benedic e vedovo di nome ma di fatto scapolo quando per qualche tempo venne a vivere qui così fece pure quel vero scapolo e quella rara anima che fu char slump così centinaio di altre persone nobili spiriti iscritti nell'ordine del celibato di tratto in tratto hanno pranzato e dormito ed eretto le loro tende in questi luoghi infatti i palazzi sono una specie di alveare di uffici alloggi come un buon cacio il tempio è completamente traforato in ogni parte dalle comode celle degli scapoli splendido posto delizioso e indimenticabile quando penso alle dolci ore che vi ho trascorso godendo così generosa e affettuosa ospitalità sotto quei tetti venerandi per il tempo il mio cuore non riesce ad esprimersi adeguatamente che ricorrendo alla poesia e con un sospiro dolcemente in tono oh a ritornar nella vecchia virginia si fatto dunque in generale è il paradiso degli scapoli e tale lo trovai un piacevole pomeriggio del sorridente mese di maggio quando salpando dal mio albergo in trafalgar square mi raccaio a un pranzo cui ero stato invitato da quell'ottimo rfc giurista scapolo e magistrato effettivamente giurista e scapolo e dovrebbe essere anche magistrato carica cui io qui lo propongo candidato tenevo stretto tra gli inguantati indice pollice il suo biglietto da visita e di tanto in tanto vi volgevo uno sguardo per godere dell'invitante indirizzo stampato sotto il nome en elmcourt temple era da cima a fondo un autentico inglese brusco indipendente amante dei suoi comodi e quanto mai cordiale se a prima vista poteva sembrare riservato e quasi raggelato nel suo aspetto poco male presto tardi quello champagne si sarebbe sgelato e quando anche non si sgelasse meglio champagne gelato che liquido aceto vi erano quella sera nove invitati tutti scapoli uno veniva dal an king's bench walk temple un secondo un terzo un quarto e un quinto da vari luoghi o vie battezzate con sillabe di timbro ugualmente sonoro si trattava infatti di una specie di senato degli scapoli adunato attorno a questo tavolo da distretti assai lontani con il compito di rappresentare il generale ceribato del tempio infatti era quasi come un parlamento dei migliori scapoli di tutta londra perché parecchi dei presenti erano giunti da remoti quartieri della città note antichissime sedi di uomini di legge e di scapoli lincoln's inn fornival's inn uno poi che non mi riusciva di non contemplare senza una sorta di riflessa venerazione veniva niente meno che dal luogo dove lord verulamio era vissuto da scapolo grace inn l'appartamento era piuttosto vicino al cielo non ricordo più quante bizzarre vecchie scale dovetti salire per giungervi ma uno squisito pranzo e una scelta compagnia devono essere meritati senza dubbio il nostro anfitrione aveva scelto la sala da pranzo così in alto nell'intento di assicurare il preliminare esercizio necessario al debito godimento e alla digestione di tale pranzo l'arredamento era magnificamente privo di ogni pretesa vecchio e comodo nessun mobile di lucino mogano ancora appiccicoso di vernice nessun lussureggiante e disagevole divano o sofà troppo belli da dire di usarli nulla di tutto ciò turbava la profonda pace di quell'appartamento è questa una cosa che ogni americano intelligente dovrebbe imparare da ogni inglese intelligente che lo splendore e l'uccichio che l'orpello e il falso russo non sono indispensabili al conforto domestico il benedict americano pranza nel quartiere degli affari e divora rapidamente una coriacea cotoletta in qualche dorata vetrina mentre lo scapolo inglese mangia tranquillo a casa sua nutrendosi di quell'incomparabile montone south down servito sopra un semplice tavolo da bete il soffitto della stanza era basso chi vuol mai desinare sotto la cupola di san pietro soffitti alti se questo è ciò che desiderate e quanto più alti sono tanto migliori li trovate e voi siete alto in proporzione allora andate a far pranzo all'aria aperta tra le interminabili giraffe a tempo debito i nove signori sedettero davanti a nove coperti e ben presto si trovarono ingazzati in piacevoli occupazioni se ben ricordo la cerimonia fu inaugurata da una zuppa di coda di bue di un amabile color rossizzo il suo piacevole sapore dissipò il primo richiamo del suo ingrediente principale al pungolo dei carrettieri e alle sferse dei precettori come interludio a questo punto sorbimmo un po di vino rosso il successivo tributo venne offerto da nettuno un rombo candido come la neve fioccoso e gelatinoso al punto giusto e non non tuoso come una tartaruga a questo punto ci rinfrescammo con un bicchiere di xeres appena superate queste leggere scaramucce entrò in campo l'artiglieria pesante guidata da quel celebre generalissimo inglese che è il roast beef come aiutanti in campo aveva una schiena di montone un grasso tacchino un pasticcio di pollo e infine altre ghiottonerie precedute da un'avanguardia di nove argente ai boccali di spumeggiante ale quando questa artiglieria pesante si fu allontanata nella medecima direzione delle pattuglie leggere si accampò sul tavolo una brigata scelta di selvaggina che accese i fuochi di bivacco al puro e sfavillante rubino di alcune caraffe seguirono torte e budini e numerevoli altre leccornie poi formaggi e biscotti come cerimonia e semplicemente per mantenere in vita antiche e lodevoli tradizioni a questo punto brindammo alla nostra salute con un bicchiere di vecchio vino di oporto venne allora rimossa la tovaglia e con l'armata di blucher che andò a sacrificarsi sul campo di vaterro avanzò un nuovo distaccamento di bottiglie impolverate per la rapida marcia tutte queste manovre si svolsero sotto la supervisione di un maresciallo di campo di venerabile età non riesco ad abituarmi a dargli il non molto glorioso titolo di cameriere che aveva nive i capelli e una nive a tovaglia e una testa da socrate tra la generale letizia occupato qual era in troppo importanti compiti non si degnò mai di sorridere venerabile uomo ho cercato poco sopra di dare qualche sommaria idea del piano generale delle occupazioni ma tutti sanno che un buon pranzo mangiato con delizia di cuore è un affare intricato poco preciso che delude ogni tentativo di minuziose descrizioni così ho riferito di aver bevuto un bicchiere di chiaretto un bicchiere di xeres un bicchiere di oport e un boccale di ale e tutti in certi precisi momenti del pranzo ma quelle furono semplicemente le bevute ufficiali per così dire numerosissimi bicchieri non ufficiali vennero infatti scolati tra le varie solenni e ufficiali bevute i nove scapoli sembravano pieni di infinito riguardo per la loro reciproca salute durante tutto il tempo mentre i vini scorrevano copiosi essi non si stancavano di esprimere con il massimo fervore i loro più sinceri auguri per il pieno benessere e la sempre vegeta salute del signore che avevano a destra o a sinistra notai infatti che quando uno di questi gentili scapoli desiderava bere un bicchiere di vino semplicemente per il bene del suo stomaco come timoteo egli non si serviva finché non avesse trovato un compagno disposto a imitarlo sembrava infatti che fosse qualcosa di poco delicato di egoistico e scarsamente fraterno essere visto assorbire un solitario bicchiere non condiviso da altri nel frattempo a mano a mano che il vino si faceva sentire l'umore dei convitati si avvicinava sempre di più a un perfetto senso di cordialità e di fiducioso abbandono narrarono piacevoli storielle di ogni genere poi riferirono episodi di speciale interesse scelti dalla loro vita privata come bottiglie di mosella o vin di reno che vengono sturate solo in occasioni speciali uno ci parlò di come fosse beatamente vissuto ad oxford quando era studente e rievocò vari pepati aneddoti di nobili signori dal cuore generoso suoi liberali compagni di studi un altro scapolo un uomo dai capelli grigi con il volto rubicondo e raggiante che a suo dire coglieva ogni momento di libertà per recarsi nei paesi bassi a visitare le più belle architetture fiamminghe questo vecchio scapolo dai capelli canuti così dotto e con un volto così raggiante e c'è leva nel descrivere i raffinati splendori di quelle vecchie sale di gilde dei palazzi municipali e dei governatori quali si possono ammirare nella terra degli antichi fiamminghi un terzo era un frequentatore abituale del british museum e conosceva tutto su molte meravigliose antichità su manoscritti orientali su preziosi volumi di cui esisteva un solo esemplare un quarto era tornato recentemente da un viaggio nella vecchia granada ed era pieno di ricordi saraceni e moreschi un quinto doveva riferire su un curioso caso legale che gli era occorso un sesto era un erudito in materia enologica un settimo narrò un curioso e caratteristico aneddoto assolutamente inedito e si riferiva alla vita privata del duca di ferro un ottavo aveva recentemente cominciato a allegrare le sue serate traducendo a tempo perso un poema eroicomico del pulci e ce ne recitò alcuni squarci assai divertenti e così la serata trascorse e le ore non erano come ai tempi di re alfredo segnate da un orologio ad acqua ma da un cronometro a vino nel frattempo il tavolo si era trasformato in una specie di epsom hit in una vera pista dove le caraffe non si stancavano di galoppare in giro nel timore che una caraffa non potesse arrivare con sufficiente velocità a destinazione se ne inviava subito una seconda che la sollecitasse e poi una terza a sollecitare la seconda e così via una quarta e una quinta ma durante tutte queste manovre mai una parola pronunziata più forte delle altre nessuna espressione sgarbata non il minimo disordine sono quasi sicuro a giudicare dalla scrupolosa gravità e austerità del suo aspetto che se il maresciallo socrate avesse notato la minima mancanza di decoro nella compagnia che serviva se ne sarebbe immediatamente allontanato senza nemmeno prendersi la briga di avvertirsi più tardi venne a sapere che proprio durante il nostro banchetto uno scapolo malato che si trovava in una camera adiacente aveva potuto godere il primo profondo sonno ristoratore dopo tre lunghe settimane di patimenti si toccò infatti la perfezione assoluta del tranquillo assorbimento di ogni volutà ottimi vini cordiali sentimenti conversazioni spiritose ci sentivamo una compagnia di fratelli il tratto che dominò tutta la serata fu un benessere familiare domestico inoltre si poteva facilmente vedere che questi uomini spensierati e tranquilli non avevano moglie né figli che potessero preoccuparli e quasi tutti avevano viaggiato perché solo gli scapoli possono viaggiare liberamente senza avvertire quei morsi di coscienza causati dal pensiero del domestico focolare abbandonato la cosa chiamata dolore lo spaventacchio definito fastidio queste due leggende sembravano assolutamente insussistenti alla loro immaginazione di scapoli come avrebbero potuto uomini di mente liberale profonda cultura del mondo e capace comprensione filosofica e conviviale come avrebbero potuto lasciarsi aduggiare da queste sciocche favole da monaci dolori fastidi tanto sarebbe valso di parlare dei miracoli cattolici no nulla del genere passate mille oxeres signore ma no ma no impossibile per piacere signore il vino di oporto sciocchezze non posso crederle mi pare che la caraffa sia rimasta immobile davanti a voi signore e così per parecchio tempo poco dopo che la tovaglia fu rimossa il nostro anfitrione lanciò uno sguardo significativo a socrate che solennemente recandosi presso una credenza ne ritornò con un immenso corno ritorto un vero corno dagerico montato in lucido argento e variamente intagliato e curiosamente ornato ed abbellito infine da due rassomiglianti testine di capra con quattro alte corne di argento massiccio che si protendevano dagli opposti lati della bocca del nobile corno principale non avendo mai sentito dire che il nostro anfitrione fosse musicista mi meravigliai non poco nel vederlo sollevare questo corno dal tavolo come se chi lo impugnava avesse l'intenzione di farne mettere un formidabile squillo ma le mie supposizioni non tardarono a rivelarsi fallaci ma io presto capì di che si trattava e quale fosse lo scopo di quel corno quando egli inserì il pollice e l'indice nell'apertura dalla quale non tardò a diffondersi per la stanza un delicato aroma che recò alle mie narici il profumo di un delicato rapè si trattava infatti di un mazzinino di tabacco che fece il giro di tutti i convitati splendida idea mi dissi prendere una presa di tabacco in questo momento buona abitudine che dovrebbe venire introdotta anche da noi in america continuai a dirmi la straordinaria dignità dei nove scapoli una dignità che nessuna dose di vino era riuscita ad attenuare nessun grado di allegria a degradare venne nuovamente posta in una luce irresistibile quando osservai che sebbene si servissero liberalmente di tabacco nessuno ardì violare il senso di decoro o tantomeno molestò l'invalido scapolo nella diacente stanza permettendosi anche un solo sternuto la presa veniva inalata in silenzio quasi fosse qualche fine innocente polverina raccolta sulle ali di una farfalla ma per raffinati che siano i desinari degli scapoli anche essi come le vite degli scapoli non possono durare in eterno giunse infatti il momento di separarci uno dopo l'altro gli scapoli ritirarono i cappelli e due alla volta dandosi il braccio si esero sempre chiacchierando nel cortile lastricato e alcuni si diressero alle loro vicine stanze a sfogliare il decameron prima di ritirarsi per la notte altri andarono a fumare un sigaro passeggiando nel giardino sul fresco margine del fiume altri ancora uscirono nella strada e chiamata una vettura si fecero comodamente trasportare alle loro lontane dimore io fui l'ultimo ad andarmene beh disse il mio sorridente anfitrione che ve ne pare del tempio e della vita che noi scapoli vi conduciamo signore disse io con uno scoppio di candida ammirazione signore questo è il vero paradiso degli scapoli grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti Grazie a tutti